Ciao Pecco, come sei? Ciao Pecco, ci vediamo ancora Ti seguo dappertutto Mi piace il treno Mi piace il paese E credo che possiamo fare un buon lavoro E come ti senti Poi tornare a Mandali Dopo essere qui per la testa pre-season Sei felice perché Hai qualche tempo di beach O che stai solo sul treno? Solo ho fatto due Beach Volley E ho fatto solo E ho fatto solo sul treno Il nuovo treno è molto buono Mi piace Vediamo la nuova Resurface Ma vediamo Credo che la nostra bicicletta può scegliere bene È perché è un treno molto veloce Credo che la Ducati Si senti bene? O perché la nuova Ducati È quasi perfetta? Credo che la nuova Ducati Sceglie meglio Ma vediamo Quando siamo arrivati Perché già in Qatar Enea Ha fatto un lavoro incredibile Credo che dopo la testa Il nostro potenziale è alto Onda è molto veloce Ma dovremmo aspettare il weekend La ultima domanda Sei felice con la nuova Ducati? Sono felice Sì 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 Sì